benvenuto su psinel il primo podcast italiano dedicato alla psicologia e alla crescita personale con gennaro romagnoli ciao e benvenuto alla 319esima puntata del podcast di psinel episodio 319 hai mai visto il film fight club oppure letto il romanzo di palagnuc si dice palagnuc non lo so oggi vedremo insieme un atteggiamento psicologico molto particolare che negli ultimi anni ho soprannominato la sindrome di fight club ed è un ottimo modo per dare senso ad alcuni comportamenti di questo difficile periodo che stiamo attraversando e in realtà di qualsiasi altro periodo difficile da attraversare bene allora iniziamo oh molto bene allora come stai hai cercato la tua soddisfazione hai scoperto come applicare l'equazione segreta della soddisfazione personale nella tua vita se non sai di che cosa sto parlando questo è il precedente episodio il 318 che ti invito ad ascoltare ad ascoltare anche in questo periodo difficile che stiamo attraversando perché se mi stai ascoltando in data di pubblicazione dell'episodio tutta l'italia è in zona rossa a causa del covid 19 di questo famoso coronavirus la puntata di oggi parla di un effetto psicologico di cui parliamo in realtà da diverso tempo ma che spiega molto bene cosa sta succedendo in questi giorni in realtà può spiegare bene che cosa accade nella vita di alcune persone in determinati momenti prima di iniziare lascia che ringrazi tutte le persone che quotidianamente siete centinaia scaricano l'applicazione di clarity la mia applicazione per imparare a meditare in modo gratuito e semplice cercala sul tuo store con clarity con la y nella fine con nella i finale allora ragazzi mi ero quasi ripromesso di non parlare più della crisi del covid 19 o coronavirus ma ormai è quasi impossibile non parlare di una delle cose più sconvolgenti degli ultimi decenni se mi segui sai che non amo quasi mai parlare di attualità non amo cavalcare la notizia per tanti motivi la prima cosa è l'aleatorietà della notizia sappiamo bene che un giorno esce una news il giorno dopo esce la sconferma la confutazione di quella stessa news infatti sono anche un po pentito della live dove abbiamo parlato di questi temi tuttavia chi fa divulgazione online come me e alla capacità la possibilità di raggiungere migliaia di persone in questi giorni ha una certa responsabilità e è necessario che si parli anche di questo per cui spero sia chiaro che questo episodio non parlerà del coronavirus ma di un effetto psicologico che potrebbe spiegare alcuni nostri atteggiamenti nei confronti di questa emergenza e in realtà nei confronti di tutte le emergenze in data di creazione di questo episodio tra il 9 e il 10 marzo del 2020 in italia ci sono diverse zone rosse e restrizioni anzi vi dirò di più c'è un piccolo aggiornamento tutta l'italia è diventata zona rossa e ci sono milioni di cittadini bloccati in casa o meglio ai quali è stato consigliato ed è giusto così di restare a casa al punto che è uscito un hashtag molto famoso io sto a casa diversi miei colleghi stanno creando contenuti su come migliorare lo smart working su come restare in casa senza annoiarsi su come proteggersi eccetera eccetera chi dire grazie a dio abbiamo internet abbiamo la rete ragazzi ed oggi sfruttiamo ancora una volta a questo potente mezzo di divulgazione del podcasting per parlare di qualcosa di molto importante qualcosa che è stato magistralmente illustrato nel film fight club non so dirti se questo sia vero non sia vero se sia stato un'intesa del regista o dello scrittore eccetera eccetera questo è il mio punto di vista assolutamente non sono un esperto di cinema e quant'altro tranquillo però se non hai mai visto quel film stupendo che ti straconsiglio sappi che spoilererò solo una piccolissima parte che è l'inizio del film e solo i primi forse i primi 15 minuti ma si tratta di qualcosa che la gente normalmente tende a non notare né all'interno del film e né all'interno della propria vita sì gene in realtà ci hai già accennato a questa tua idea della sindrome di fight club sembrava una tendenza seria però una cosa clinica per appunto per persone che soffrono sì è vero ne ho parlato in terminologie un po cliniche ma tra poco capirai che non è una categoria clinica l'ho inventata io l'ho inventata per mettere in una in una scatola alcuni atteggiamenti e in particolare alcuni tipi di atteggiamenti in caso tu abbia visto o meno fight club il film inizia in questo modo uno dei protagonisti edward norton ha una specie di crisi esistenziale che se non ricordo male cerca di riempire arredando casa ma non trova una vera e propria pace in queste azioni fino a quando un giorno si ritrova quasi per caso in un gruppo di autoaiuto per persone affette da un gravissimo tumore il protagonista però non ha alcun malanno ma si trova lì in mezzo per caso e scopre una cosa molto strana si trova molto bene in mezzo a tutta quella sofferenza ecco in questi anni di pratica clinica ho coniato il termine sindrome da fight club per tutte quelle persone che sembrano amare lo sguazzare in mezzo alla sofferenza che devono sempre parlare di disgrazie che amano ascoltare le sofferenze altrui che passano ore a guardare programmi televisivi dove c'è una persona che soffre oppure di persone che parlano di altre persone che stanno soffrendo è una sorta di come potremmo dire una sorta di sindrome della persona che rallenta quando c'è l'incidente stradale è presente tutti quanti ci arrabbiamo quando ci sono gli incidenti e pensiamo ma perché quel pirla sta rallentando e poi quando passiamo anche noi rallentiamo a nostra volta attenzione però questa potrebbe essere facilmente scambiata con la sindrome tra virgolette della croce rossina cioè la tendenza a prestare sempre soccorso alle altre persone questa è molto peggio dal punto di vista morale è come la sensazione di pensare tra virgolette meno male che è successo a loro diciamo così ma non è qualcosa di volontario a chi capita non si rende conto di andare a sguazzare nei guai delle altre persone lo facciamo praticamente in modo inconscio è nota che dico lo facciamo perché in realtà tutti quanti potremmo tendere a ricadere nella sindrome di fight club ora potremmo fare 10.000 ipotesi sul perché accada qualcosa del genere ma devi sapere che sotto sotto tutti 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 abbiamo questa tendenza ed è per questo che ti ho fatto la metafora dell'autista perché se anche tu guidi probabilmente quando c'è un incidente anche tu dai un'occhiettina no no genna io ho sempre odiato chi si mette a guardare i programmi tv con le disgrazie in stile chi l'ha visto e quelle robe là certo caro sto generalizzando ma ti sei mai chiesto perché un programma come chi l'ha visto va così forte da decenni oppure altri programmi che parlano delle disgrazie degli altri sono così noti o perché la maggior parte delle notizie al telegiornale sono negative ok abbiamo già parlato di questo il motivo è una tendenza umana che tutti abbiamo e scommetto che forse ci sei già arrivato è ancora una volta la tendenza che risale alle nostre origini evolutive infatti per la nostra sopravvivenza è molto meglio conoscere i disagi e gli ostacoli che non i vantaggi e le cose del benessere diciamo così in altre parole non ci sono informazioni interessanti in un programma televisivo divertente e felice per la in un programma dove si parli di incidenti e cose terribili ci sono un sacco di informazioni probabilmente utili per la tua sopravvivenza l'abbiamo visto in 100.000 salse il nostro cervello sembra essere più attratto dalle cose negative che da quelle positive sì è vero genna in realtà ne hai parlato spesso quando introdotto e anche nei tuoi prodotti legati alle emozioni sì esattamente siamo più attratti dalle persone arrabbiate e accigliate che non da quelle sorridenti perché ancora una volta è più utile per la nostra sopravvivenza ora in questo periodo di coronavirus tra mille virgolette devi sapere che tale tendenza sta prendendo molto piede e non sono qui certo a dirti di non fa di non informarti su questa questione che sembra essere una delle situazioni più difficili per il nostro paese in realtà per tutta la società mondiale mai vista in precedenza o almeno dai numeri e dalle previsioni sembra che la cosa possa diventare tale non voglio spaventarti ma sono qui a dirti che la sindrome di fight club potrebbe venire anche a te in questi giorni potresti avere come il desiderio di continuo di ascoltare informazioni guardare la mappa virtuale cercare di capire quali sono quelli vicino a te quelli lontani a te quando in realtà l'unica cosa che dovresti fare è seguire le normative del governo che puoi trovare praticamente ovunque anche sul mio profilo di instagram lavarti le mani cercare di non creare agglomerati di persone uscire meno possibile da casa eccetera eccetera quindi cercare di riconoscere la sindrome di fight club non significa far finta che non stia accadendo nulla questo è ancora più grave nella situazione attuale perché fare gli eroi ed organizzare feste aperitivi e robe del genere è una cazzata questa crisi ci costringe ad applicare quello che da tempo chiamiamo lo sguardo sistemico se hai 30 anni non devi organizzare la festa perché sei tu ad avere paura del contagio ma perché se tu ti contagi poi tua mamma che magari ha 50 anni e magari si rompe una gamba non trova posto in ospedale non so se ci siamo spiegati oppure magari un tuo amico di 30 anni non troverà un respiratore eccetera eccetera se hai uno sguardo allargato sistemico lo chiamiamo subsinel ti accorgi facilmente che anche se i tuoi amici trentenni stanno bene potrebbero ammalarsi i loro genitori i loro parenti eccetera eccetera abbiamo visto tantissime cose l'altro giorno ho visto delle interviste dei ragazzi furi da un locale che ha detto lasciateci divertire ma me cosa me ne frega tanto sono giovane ragazzi questa in un'ottica sistemica è cecità assoluta è perdonabile magari a un sedicenne a un diciottenne ma già un ventenne un trentenne non è assolutamente perdonabile ovviamente se abbiamo 30 anni fermiamo il diciottenne che vuole andare a fare l'aperitivo perché è davvero molto importante in questo periodo essere particolarmente accorti ma allo stesso tempo dobbiamo stare attenti a non fermarci troppo davanti a quell'incidente altrimenti creiamo una coda gigantesca dobbiamo essere noi primi a stare attenti a come comunichiamo soprattutto se comunichiamo online in questo momento mi sto un po confutando da solo perché sto facendo una puntata che ha un po come tema questa emergenza quindi allo stesso tempo sto aumentando un pochettino l'hype potremmo dire così l'attenzione su questo tema però spero di essere chiaro nel dirti che questa puntata mi serve per aumentare la consapevolezza delle persone la tua la mia consapevolezza sul fatto che l'effetto la sindrome di fight club raddoppia triplica proprio in questo momento stiamo attenti e tra poco vedremo insieme alcuni consigli per evitare per gestire al meglio proprio questa sindrome per cui come al solito bando alle ciance ed iniziamo con i consigli di questa settimana primo riconosci la sindrome di fight club se ti ritrovi a voler frequentare persone che parlano di disgrazie a seguire programmi tv dove si parla solo di disgrazie e questo ti fa sentire meglio allora significa che sei affetto tra virgolette dalla sindrome di fight club tranquillo guarire facilissimo perché non esiste l'ho inventata io te lo ripeto in caso te ne fossi dimenticato però è un atteggiamento molto reale che in questo periodo potrebbe diciamo così dilagare perché dovresti iniziare a notare questa sindrome allora i motivi sono essenzialmente due il primo è legato al fatto che in realtà questa ricerca invece di migliorare cioè la ricerca di informazioni su un tema negativo invece di migliorare le cose le peggiorano a volte succede alle persone traumatizzate di voler ripetere determinate esperienze in altre parole se hai fatto magari un incidente in un luogo ti viene voglia di frequentare quel luogo per assurdo ma se quest'azione viene fatta in modo automatico compulsivo diciamo così proprio in questo modo quasi come se fosse un impulso diventa in realtà un tentativo vano che peggiora le cose in altre parole se tu pensi voglio ascoltare tantissime notizie sul coronavirus perché così almeno mi vaccino psicologicamente dal coronavirus sappi che non è sempre così il secondo motivo è legato alla socialità se continui a fare in questo modo ti circonderai e sai che in questo periodo non dovresti circondarti di persone ma anche solo online ti potresti circondare di persone che fanno così come te cioè che tendono a soddisfare il tuo desiderio di notizie negative ti vomiteranno addosso tutte le loro disgrazie spero che sia chiaro appunto che questa tendenza questo fenomeno esiste al di là di questo momento di crisi in qualsiasi momento e in qualsiasi latitudine del mondo potresti trovare persone tra virgolette affette dalla sindrome di fight club secondo lascia spazio alla paura la sindrome di fight club nasce spesso per motivi legati alla paura non è un segreto che la gente che ama i film dell'orrore sia anche paradossalmente quella che ha più paura di quelle cose in altre parole le persone che guardano il film dell'orrore magari credono negli zombie nei vampiri nei demoni eccetera eccetera in altre parole quelle persone stanno facendo ciò che ti ho appena raccontato stanno cercando di esporsi ad un aspetto spaventoso per digerirlo per esorcizzarlo se questo viene fatto in modo inconsapevole come abbiamo visto precedentemente non funziona in altre parole se tu ti senti così così e inizia a cercare tante notizie sul coronavirus per sentirti meglio questo non funziona se invece questa azione è fatta in modo consapevole invece può funzionare in altre parole se ad esempio ti metti a guardare il film dell'orrore con l'intento di superare quelle paure sapendo di avere quelle paure ecco che il film può diventare davvero un gesto terapeutico di esposizione ora come facciamo per l'appunto a creare questo spazio dove poter elaborare la paura lo possiamo fare attraverso un esercizio molto semplice di cui abbiamo straparlato negli anni e mi riferisco alla nostra scrittura espressiva ti ricordi ti metti lì con carta e penna troverai tutto tra gli appunti nel qd ma se sei curiosissimo al termine di questo audio vai su google scrivi scrittura espressiva e molto probabilmente tra i primi risultati di google ti verrà fuori la mia puntata terzo nel dubbio chiedi e agisci se hai un dubbio di avere qualche cosa di non stare troppo bene eccetera eccetera chiedi non restare dentro la tua testa a farti elocubrazioni particolari su che cosa ho come mi sentirò ma c'ho i sintomi non c'ho i sintomi alza il telefono in questo momento storico alza il telefono e chiama il tuo medico di base e chiedigli come ti senti magari prima ancora di alzare il telefono se sai di avere non so la tendenza l'ipocondria potresti aspettare un po di tempo fare il nostro esercizio di penna baker dedicarti un po alla meditazione ascoltarti qualche puntata di psynel insomma lasciare un po di spazio in modo che la tua mente la smetta tra virgolette di fermarsi a guardare l'incidente restando nella metafora principale di questa puntata quindi nel dubbio non restare dentro di te a chiederti è così non è così è così non è così o agisci quindi alzi il telefono chiami il tuo medico di base alzi il telefono prenoti quella visita eccetera eccetera oppure cerchi di non sguazzare in quella cosa lì in altre parole il tuo pensiero come abbiamo visto centinaia di volte è una simulazione della realtà che continua a elaborare 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 per darti per darti diciamo così una spinta a fare qualche cosa nella tua testa a furia di elaborare non diventerai più tranquillo e questa è una tendenza molto particolare perché il cervello per tranquillizzarsi inizia a fare una valanga di pensieri in alcuni casi diventa una ruminazione cioè continuiamo a pensare senza riuscire a fermare questo pensiero quando arriviamo a quel punto ovviamente non sto parlando in termini clinici significa che abbiamo utilizzato troppo quella macchina pensante per cercare delle risposte a domande che non possono avere risposta cioè quel dolorino che senti nella gamba uscendo fuori dalla storia del virus non è necessariamente un tumore all'osso scusatemi se vado così in fondo ma noi andiamo così con la mente andiamo nella cosa peggiore che ci possa venire in mente per cui se continua a sentirlo continua a lamentarti continua a cercare notizie online stai sbagliando fermati e prenota una visita da qualcuno che può darti diciamo così un'informazione più concreta pensarci e cercare informazioni alla rinfusa non fa altro che peggiorare quella tua paura ok ragazzi spero di essere stato abbastanza chiaro che la sindrome di fight club non esiste l'ho presa io scherzosamente un giorno guardando un film e notando che molti miei pazienti avevano questa tendenza la tendenza a soffermarsi esageratamente sugli aspetti dolorosi della vita non solo sui propri in alcuni casi anche sugli altri e in alcuni casi potrebbe davvero rientrare in una specie di sintomatologia tra molte virgolette perché io l'ho vista molte volte nel mio studio e conosco molte persone che hanno come il piglio di parlare sempre di cose negative e questo non in questo periodo ma in generale nella vita tanto che queste persone iniziano a farsi tra virgolette terra bruciata intorno a loro perché se parli sempre di cose negative o attiri persone che come te hanno la sindrome di fight club come marla per chi ha visto il film e ti ritrovi nello stesso gruppo di autoaiuto oppure è un bel casino perché la gente scappa non vuole sentire continuamente parlare di cose negative per quanto il nostro cervello sia cablato per essere più attratto da quelle mi auguro che questi semplici consigli e anche l'idea della sindrome di fight club come immagine ti aiuti a ricordarti che non devi stare lì a guardare centomila notizie negative soprattutto in questo momento ma che puoi fare tantissimo anche se in questo momento sei a casa tua puoi ascoltare le mie puntate per guardare una marea di video ci sono un sacco di modi intelligenti per passare il tempo puoi crearti una piccola palestrina in casa per fare dell'esercizio puoi iniziare a meditare scaricando la mia applicazione o qualsiasi altro modalità di meditazione puoi trovare online ce ne sono tantissime puoi leggerti dei libri puoi ordinarli su amazon se proprio non vuoi andare in libreria anzi ti sconsiglio di andare in libreria ordinali online eccetera eccetera insomma abbiamo un periodo di pausa forzata dobbiamo stare attenti a non fermarci esageratamente con l'auto a guardare chi ha fatto un incidente continuiamo a restare informati perché è importante ma sempre con grano salis cioè stando attenti a non fermarci troppo quel tanto da creare una coda gigantesca e da far sì che nella nostra mente ci sia solo e soltanto quella informazione perché se io da oggi da tre mesi mi metto a parlare solo di non lo so di besughi di pesci e cose del genere prima o poi ti verrà in mente solo il pesce e la stessa identica cosa vale per qualsiasi altro argomento esponiamoci a tante informazioni differenti cerchiamo di essere onnivori soprattutto in questo periodo di pausa forzata bene ragazzi ho fatto un po questa puntata braccio perché avevo un po di informazioni di qua un po di informazioni di là poi voi non ve ne siete accorti ma qua attorno gli operai continuano a lavorare nonostante ci sia la pausa lavorativa ma parte questo perdonatemi se la puntata un po frastagliata ma ho dovuto fermarmi e farla ripartire rifermarmi eccetera eccetera tranquilli non mi sono fermata a guardare un incidente se ve lo state chiedendo bene come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qui spero che la sindrome di fight club vi apra gli occhi su un vostro atteggiamento mentale sull'atteggiamento mentale di un vostro caro ricordandovi che non lo facciamo apposta è una tendenza naturale fatemi sapere che cosa ne pensate mettete mi piace condividete questa puntata vi auguro una splendida giornata ci sentiamo la prossima settimana un saluto da gennaro romagnoli di psinel.com Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!